Benvenuti ancora una volta sul mio canale, oggi vi porterò come a fare il vaccino. E adesso via con la sigla! Prima di cominciare però, volevo farvi una breve precisazione, cioè che io mi sono iscritta un po' prima di voi, insomma, dell'apertura delle iscrizioni, cioè il 3 giugno in teoria, sì. Perché appunto ho il papà che ha il diabete, quindi insomma per causa sua insomma mi sono dovuta iscrivere prima. Perché avendo il papà appunto con una disabilità, le persone che abitano insieme hanno la precedenza sugli altri. Destinazione di oggi, Fiera di Padova per farsi il vaccino anti-covid, che vedremo se funzionerà o farà altri danni. In bici, col mio mezzo e via! Adesso manca solo da capire dove bisogna andare a fare il vaccino. Dice che il centro vaccini è di là, quindi adesso proviamo ad andare. Venite con me! Ho trovato il posto dove ci si vaccina, o meglio l'accettazione, poi vi racconterò più avanti. Vi aggiorno sulla situazione. Sono appena arrivata al padiglione mio. Per sei. Adesso entro e ci vediamo dopo. Per sei. Adesso si aspetta. Qualche considerazione finale, però volevo farla. Allora, organizzazione ottima secondo me, molto organizzati anche sull'entrata, su dove sedersi, sull'accettazione, insomma su tutte le varie momenti. Che immancabili in questo ambito. Adesso vi lascio qualche video, qualche foto, in modo che voi possiate capire anche l'organizzazione come era, ma graficamente. In breve, adesso vi spiegherò cosa mi hanno fatto fare, cioè cosa ho vissuto. Allora, la strada, vabbè, col navigatore è semplice arrivare in Fiera Padova. Io mi sono vaccinata in Fiera Padova. E vabbè, lì ho avuto un attimo di... come si dice... non era tanto spiegato bene dov'è il padiglione. Io avevo il 6. Poi, vabbè, l'ho trovato lì. Accoglienza ottima, devo dire. Proprio c'erano i volontari della Croce Rossa che ti indirizzavano all'entrata. All'entrata, ovviamente, ti misuravano la febbre e ti mettevano il giallo sulle mani. E... devo dire che... insomma, molto veloci. Poi ti facevano accomodare su... c'era una specie di quadrato con tutte le sedie. Ti facevano accomodare in base all'orario, alla fascia oraria che avevi. E poi, niente, quando la fascia oraria prima della tua aveva finito, ti facevano accomodare in un altro posto dove, appunto, aspettavi il tuo turno. Perché, insomma, andavano a fasce di tante persone, capisci? Capite? Devo dire che poi il vaccino in sé non ha fatto per niente male. O meglio, quando mi hanno... sì, infilzato, come si so dire, sì, si è sentita la punta del lago che entrava. Però poi non è che si sia sentito tanto dolore. Forse, ecco, appunto, nei giorni seguenti, magari le notti, facevi fatica a dormire, qualche movimento, facevi, insomma, fatica a farlo. Magari sentivi qualche dolorino, ma il dottore comunque mi aveva avvisato che è come se avessi preso una botta. Cioè, niente di che capisci, capite? E invece, tornando alle considerazioni, l'uscita, insomma, è stata un po' un casino. Perché sono uscita e mi sono praticamente persa, disorientata al massimo. Infatti ho dovuto chiedere. Comunque, vabbè, quello lì è un problema mio perché sono io che non conoscevo la fiera. Anche per quanto riguarda la prenotazione, io non ho prenotato sul sito, ma ho prenotato tramite telefonata, che tra l'altro ha fatto mio opa per questione del diabete che vi dicevo prima. E immediatamente mi è arrivata la mail con la prenotazione, dove c'era il numero della prenotazione, l'orario, il padiglione, insomma, e dove andare. Quindi, insomma, tutto velocemente. Questo è uno dei miei primi video, quindi vi chiedo di lasciare un mi piace e magari di scrivere nei commenti qualche consiglio che mi date per altri video. Grazie e al prossimo video! Grazie!